Volevo dire due cose con questo video riguardo alle recenti live di Sabah Konomaiko riguardo a Genshin Impact e all'utilizzo dei miei video guida all'inizio delle sue live perchè già un po' nel primo ma soprattutto nel secondo forse si è perso per alcuni un pochettino il focus di quelli che erano gli obiettivi e sono tuttora gli obiettivi di quei video Assolutamente io non ce l'ho con nessuno anzi non equivocate sia ben chiaro io sono estremamente lusingato ed estremamente grato a Sabah Konomaiko, quindi a Michele per aver scelto di proporre quei video guida all'interno di questo suo percorso di 16 live di Genshin Impact percorso estremamente audace, super ambizioso perchè il tempo è molto poco e quello che c'è da vedere in 3 anni di sviluppo di gioco è assolutamente fuori portata da una finestra temporale così bassa che però mi ha reso estremamente felice gliel'avete proposto voi gliel'avete proposto anche con insistenza lui ha accettato ed è stato gentilissimo ve lo ha richiesto nel momento in cui vi siete resi conto che magari i miei video erano un po' lunghetti e questi potevano andare a mangiare un po' di tempo da quella che sarebbe stata l'esperienza gli avete di nuovo ridetto che andava bene iniziare con un video guida io quindi di questo non posso altro che essere orgoglioso e felice e ringraziarvi di cuore ma piccole precisazioni le volevo fare lo stesso per dare anche un senso per molti a questi video che non si spiegano in alcuni casi guardando anche magari la chat che comunque è stata seppur estremamente educata quindi non ce l'ho con nessuno del motivo perché sono stati fatti in quel modo quei video i video guida quindi quella collana di video guida di 5 episodi fatta per chi non ha mai giocato a Genshin Impact non è solo per chi non ha mai giocato a Genshin Impact ma è anche proprio per chi non ha praticamente mai quasi giocato a un videogioco in generale e a un videogioco, un play world di quel tipo lì questo l'ho fatto perché moltissimi videogiocatori e videogiocatrici si sono approcciati per la prima volta al medium videoludico e soprattutto a questo videogioco, a questo genere che è un Frankenstein, è un po' di tante cose per la primissima volta quindi magari persone che non hanno mai preso un pad in mano o non hanno mai giocato seriamente a un videogioco che avesse un po' più che un casual game di quelli proprio veloci, rapidi si trovano un po' spaisati di fronte a un meccanismo molto complesso partendo anche solo dall'HUD di gioco magari hanno il pad del padre o della madre o per la prima volta hanno raggiunto un'età in cui hanno un telefono un po' più performante e hanno potuto scaricarlo bene, non è proprio secondo la mia modesta opinione così facile rapportarsi a un videogioco, un videogioco complesso come quello questo è il motivo per il quale purtroppo nel primo video mi sono reso conto che effettivamente Mike ma soprattutto la maggior parte del pubblico si è annoiata perché? perché vai a spiegare l'HUD di gioco ovvero l'interfaccia di gioco con tutte le sue icone con tutte le sue vocine, le sue robe mi rendo perfettamente conto che risulti ok vabbè skip, questo lo so, questo lo so, questo lo so ma l'intento era nato per quello passando poi per il secondo video che è quello di ieri dove in molti hanno inneggiato allo spoiler perché abbiamo parlato un pochettino dell'altra parte di menu che mancava ma lì sono andato abbastanza veloce il resto l'ho dedicato alla mappa spiegare la mappa di Genshin Imp non è che sono qua a difendermi perché oh mio dio mi avete trattato male no no non è per quello era solo giusto per dare anche io una spiegazione un pochettino a molti riguardo a il spoiler non spoiler riguardo all'utilizzo della mappa spiegare la mappa di un gioco come Genshin Impact senza entrare in alcuni dettagli mi risultava molto difficile e allora piuttosto che dare informazioni a metà e dire ah poi qui ci tornerai ah poi qui lo riscoprirai ah poi qui lo farai ho preferito andare all in full throttle con questo fa questo, questo fa l'altro questo fa quest'altro ancora anche perché nasceva in un momento questa guida dove si si rivolgeva assolutamente non voglio contraddirmi però si rivolgeva assolutamente a questo tipo di pubblico qui con un linguaggio molto elementare e molto semplice ma andava anche a parlare a tantissime persone che magari lo avevano cominciato in inglese e poi lo avevano droppato e arrivava in concomitanza con l'arrivo della lingua italiana quindi c'era anche quello piccolo seppur minore specchio di persone che comunque un po' il gioco l'aveva già visto era inevitabile dover parlare di parti della mappa mostrando parti della mappa in verità mentre registravo il video ci avevo anche pensato e infatti se notate sto sempre principalmente su Mostad poi dopo mi sono reso conto che per far vedere dei Leyland per far vedere gli alberi per far vedere le robe in cui non sono entrato troppo nello specifico ma anche solo i mostri settimanali chiaramente avrei dovuto mostrarvi e farveli vedere e quindi lì poi ho detto vabbè vado full throttle e buona notte al secchio potreste aver ragione solo su un fatto secondo me magari quello dell'isola segreta però sapete sto parlando dei pin isola segreta che poi ragazzi sto parlando dei pin sto parlando di come si mette si può trovare anche qualcosa al di fuori della mappa lì lo posso capire lì probabilmente avete ragione però secondo me in una in un video così di da scalico così tecnico che però secondo me risulta essere estremamente utile dove vi spiego dove non buttare le vostre risorse e dove andarvi a concentrare quali sono i punti focali all'interno di una mappa grande una mappa veramente imponente che lì oltretutto non era neanche così imponente come magari lui è adesso perché non c'era ancora tutta la seconda parte del deserto di Sumero secondo me necessitava di un approfondimento di questo tipo nessuno poi chiaramente vi vieta di premere la barra spaziatrice o tirare una secchiata d'acqua al monitor gridando e scappando tipo Zoiberg per dire la via di Asmailer non li voglio vedere non li voglio vedere capisco però il vostro discorso e lo capisco anche contestualizzato a quello che è principalmente anche il pubblico al quale viene rivolto nel mio caso e il pubblico al quale viene rivolto in questo caso vedere anche la live e sapendo no perché comunque io lo seguo sabaco lo seguo e quindi so bene o male com'è anche il suo spirito del videogiocatore e l'anima e quella del pubblico assiduo che chiaramente lo segue con tanto affetto si ha un approccio molto didascalico molto molto spoiler denied dove si cerca di scoprire tutto si cerca di teorizzare si legge si guarda la lore e in un gioco come Genshin Impact c'è tantissima di questa parte quindi posso capire che ci sia stato un po' un'insofferenza di fronte a un video di questo tipo c'è anche da dire dall'altra parte della medaglia credo che a Mike questo non abbia dato noia e non sia stato un problema visti anche i cortissimi tempi che lui ha cioè ironicamente un video del genere seppur un po' di spoiler di mappa l'abbia fatta sia stato più funzionale e più utile per i tempi corti che ha una persona come in questo caso dal progetto che lui ha elencato la critica è stata spesso ho letto nella mia chat e nell'altra chat ma se poi un domani si appassiona e si mette a giocarlo onesto sincero con tutte le cose che ha da fare secondo me con i progetti che ha meravigliosi che sta portando avanti secondo me quella mappa si è già dimentichata poi magari in verità no ce l'ha ben stampata in mente e ho rovinato per sempre la sua esperienza spero di no però penso che ci siamo capiti che cosa ho fatto per cercare di evitare che i prossimi video siano pomposi di lascalici e che non vi interessino e che soprattutto siano più interessanti per lui è stato gentilissimo uno dei suoi o uno delle sue non so moderatori moderatrici che mi ha contattato mi è venuto anche in live da me ci siamo sentiti io ho detto guarda ti do due link di quelli che gli erano stati proposti in cui secondo me sono più utili più interessanti e si va un po' più alla ciccia e io gli ho postati e io ho detto guarda secondo me quello delle reazioni elementali e quello di come si builda un personaggio sono i due video più importanti e che credo a lui servano di più in questo momento quindi magari saltiamo la tutta la parte del drop delle percentuali delle statistiche che magari un domani si può andare a vedere la parte del banner perché poi ci sarebbe stato il terzo video che vi spiega tutti i banner quindi vi spiega come funziona un banner quali sono il pt system come è meglio sfruttare le risorse come ottenere le risorse contate che questi video sono usciti uno dietro all'altro quindi si sono lunghi sono 30 minuti potete fare 1.5 2.0 però è uscito sono usciti in 5 i primi 3 in 3 giorni gli altri 2 una settimana dopo quindi comunque sono molto stretti molto attaccati l'uno con l'altro e chiaramente non vederli di seguito che è un po' lungo però sembrano molto pomposi comunque ho consigliato quei due lì spero che magari si vada in quella direzione sia per voi che guardate la sua live in modo tale che non vi rompiate troppo le scatole e di questo io mi scuso sia per lui che possa giustamente ma perché l'ho anche detto ma ripeto è giusto non vedere un video di un ragazzo che parla di un gioco e lo spiega a un bambino di quinta elementare seppur sia un concetto che vale per tutti i giocatori per chiunque e veda qualcosa di un pochettino seppur sempre spiegato in maniera molto semplice un pochino più interessante a quella che è funzionale a quella che è la sua esperienza adesso di gioco dato anche il tempo dato anche il tempo ridotto ripeto questo video non voleva essere assolutamente una critica io sono grato a livelli stellari sia a voi sia a lui per la fiducia che mi avete dato e per il piccolo seppur importantissimo per me riconoscimento a livello di community a livello di videogioco che mi state dando perché far vedere una guida mia a Sabaku per me è comunque un gran risultato e vuol dire che nel bene o nel male chi vi stia simpatico antipatico a Zergantis qualcosina di interessante e di fatto bene anche io ogni tanto spero di riuscire a fare detto questo io vi ringrazio vi auguro una una buona giornata scusate se non è uscito il video di Final Fantasy report oggi che avrei dovuto fare analizzando ogni singola parte ma vi dico la verità mi sto un po' cacando sotto a fare quel video lì perché io mi conosco e quel video lì non è un video che si fa in una mattina così preso dal dal cuore ma serve un po' più di tempo ma vi prometto che lo faccio ve lo prometto vi auguro una buona serata in Alte State of Zerga ciao belli